Il comando della Guardia di Finanza di Eboli, su disposizione della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Salerno per oltre 2 milioni di euro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di frode fiscale. Il provvedimento cautelare e garanzia del credito erariale ha portato al sequestro di un fabbricato commerciale a campagna, a quote societari, autoveicoli e disponibilità finanziaria per un valore che supera i 400 mila euro riconducibili a due importanti società di campagna operanti nel settore tessile, entrambe amministrate dalla stessa persona. Le indagini condotte hanno permesso di individuare guadagni sottratti a tassazione per oltre 11 milioni di euro ed un'evasione di 2,1 milioni di euro.